la maggior parte di coloro che hanno parlato in questo luogo sono soliti lodare colui che ha introdotto nella tradizione questo elogio in quanto è bello che esso sia pronunciato sulla sepoltura dei caduti in guerra a me tuttavia parrebbe sufficiente che la gloria di uomini che si sono dimostrati valorosi nei fatti sia mostrata dai fatti stessi quali anche oggi vedete gli onori attribuiti a spese pubbliche per questa sepoltura e che non si metta a rischio la celebrazione del valore di molti nelle mani di un uomo solo che parli bene o male difficile infatti è mantenere la misura nel parlare quando a malapena è sicura l'apparenza della verità un ascoltatore ben informato e benevolo infatti facilmente riterrà che sia stato mostrato qualcosa di meno a ciò che si attende e sa e chi invece non ne sa nulla riterrà che qualcosa sia stato esagerato per invidia se sente qualcosa che supera le sue capacità in effetti le lodi rivolte ad altri vengono accolte solo fino a questo punto fino a dove ciascuno ritiene di essere a propria volta in grado di arrivare a compiere qualcosa di ciò che ha sentito nei confronti di ciò che supera le proprie capacità invece subito si è diffidenti ma poiché gli antichi hanno deciso che è bene che le cose stiano così anch'io rispettando la tradizione dovrò tentare di venire incontro il più possibile ai desideri e alle aspettative di ciascuno inizierò dunque in primo luogo dai nostri antenati è infatti giusto e conveniente che proprio in questa occasione venga offerto loro il riconoscimento di una menzione costone infatti abitando questa terra senza interruzioni di generazione in generazione l'hanno tramandata libera fino ai nostri giorni grazie al loro valore e se questi sono degni di lode ancor più lo sono i nostri padri i quali dopo essersi conquistati non senza fatica il dominio che ora noi possediamo a partire da quanto avevano ricevuto in eredità lo consegnarono a noi contemporanei ma la maggior parte di questo dominio l'abbiamo estesa noi che siamo ancora nel pieno della maturità e a beneficio di tutti abbiamo reso la città pienamente autosufficiente in guerra come in pace io però le imprese di costoro in guerra ciò che ciascuna di esse ci ha conquistato oppure se noi stessi o i nostri padri abbiamo respinto valorosamente un barbaro o un greco che ci attaccava lo lascerò perdere non volendo dilungarmi in presenza di chi ben le conosce ora innanzitutto mi accingo a mostrare a partire da quali interessi siamo giunti a questo punto e con quale forma di governo e con quali costumi grazie ai quali l'impero è divenuto grande e poi alla lode di costoro poiché ritengo che in questa occasione non si è inappropriato dire tali cose e che a questa folla di cittadini e di stranieri possa essere utile ascoltarle viviamo infatti in un sistema di governo che non invidia le leggi dei vicini ma anzi siamo noi d'esempio per alcuni piuttosto che imitare altri e il suo nome a motivo dell'essere amministrata non nell'interesse dei pochi ma dei molti è democrazia e secondo le leggi ciascuno ha pari diritti nelle dispute private e per quanto riguarda la considerazione dei cittadini ognuno secondo quanto si distingue in qualche campo nell'amministrare le faccende pubbliche non è stimato per la classe sociale da cui proviene più che per il suo valore né d'altronde la povertà se si è in grado di fare qualcosa di buono per la città ed ostacolo a causa dell'oscurità del rango liberamente governiamo gli interessi pubblici e anche l'ostilità reciproca nell'ambito dei contatti quotidiani senza adirarci con il vicino se fa qualcosa per il proprio piacere e senza infliggerci molestie certo non passibili di punizione ma comunque spiacevoli a vedersi mentre conviviamo in privato senza offenderci nelle faccende pubbliche non violiamo le leggi soprattutto per timore per obbedienza a coloro che di volta in volta reggono il potere e alle leggi in particolare a quelle che sono stabilite per proteggere le vittime di ingiustizia e a quelle che pur non scritte portano unanime disonore di fronte alla comunità inoltre ci procuriamo con l'ingegno il massimo sollievo dalle fatiche stabilendo per legge agoni e sacrifici annuali e in privato con arredi eleganti il diletto dei quali di giorno in giorno scaccia dai cuori il dolore grazie all'influenza della città ogni genere di mercanzia è importata da tutto il mondo e ne consegue che per noi i prodotti di questa terra non hanno un gusto più familiare di quelli degli altri popoli anche nei preparativi per la guerra ci distinguiamo dai nemici in questo modo abbiamo reso la città patrimonio comune e non accade mai che allontaniamo con decreti di espulsione qualcuno da un'occasione di apprendimento o di ammirazione anche se non nascondendola qualcuno dei nemici potrebbe trarre giovamento dal vederla non confidando nei preparativi e negli inganni più che nel valore che c'è proprio nell'agire e nell'educazione gli altri con esercizi faticosi fin da giovani vanno incontro ai doveri dell'età adulta noi invece pur vivendo con leggerezza non di meno affrontiamo pericoli di pari entità ecco nella prova neppure i lacedemoni invadono la nostra terra da soli bensì con tutti gli alleati noi invece quando invadiamo il territorio altrui senza difficoltà in terra straniera sconfiggiamo generalmente in battaglia uomini che combattono per le proprie cose e nessun nemico mai si è scontrato con la nostra potenza intera grazie al nostro interesse per la flotta e ai frequenti invii di truppe terrestri in molte destinazioni diverse ma quando si scontrano con una parte di essa dopo aver sconfitto alcuni di noi si vantano di averci respinti tutti e se vengono sconfitti di essere stati battuti da tutti noi perciò se ci prepariamo a combattere più con la tranquillità che con l'esercizio delle fatiche e con il valore che deriva non dalle leggi quanto dai costumi ne risulta che non ci affatichiamo in anticipo per i mali che ci aspettano e quando ci capita di affrontarli non ci dimostriamo meno valorosi di coloro che sempre si esercitano per questi motivi la nostra città è degna di ammierazione e per altri ancora abbiamo una costituzione che emula le leggi dei vicini in quanto noi siamo più d'esempio ad altri che imitatori e poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone ma alla maggioranza essa è chiamata democrazia di fronte alle leggi per quanto riguarda gli interessi privati a tutti spetta un piano di parità mentre per quanto riguarda l'amministrazione dello stato ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un determinato campo non per la provenienza da una classe sociale ma più per quello che vale e per quanto riguarda la povertà se uno può fare qualcosa di buono alla città non è impedito dall'oscurità del suo rango sociale liberamente noi viviamo nei rapporti con la comunità e in tutto quanto riguarda il sospetto che sorge dai rapporti reciproci nelle abitudini giornaliere senza adirarci con il vicino se fa qualcosa secondo il suo piacere o senza infliggerci a vicenda molestie che sì non sono dannose ma pure sono spiacevoli ai nostri occhi senza danneggiarci esercitiamo reciprocamente i rapporti privati e nella vita politica la reverenza soprattutto ci impedisce di violare le leggi in obbedienza a coloro che sono nei posti di comando e alle istituzioni in particolare a quelle poste a tutela di chi subisce ingiustizia o che pur essendo non scritte portano a chi le infrange una vergogna da tutti riconosciuta adoperiamo il bello ma con semplicità e ci dedichiamo al sapere ma senza debolezza adoperiamo la ricchezza più per la possibilità di agire che essa offre che per sciocco vanto di discorsi e la povertà non è vergognosa ad ammettersi per nessuno mentre lo è assai più il non darsi da fare per liberarsene riuniamo in noi la cura degli affari pubblici insieme a quella degli affari privati e se anche ci dedichiamo ad altre attività pure non manca in noi la conoscenza degli interessi pubblici siamo i soli infatti a considerare non già ozioso ma inutile chi non se ne interessa e noi ateniesi o giudichiamo o almeno ponderiamo convenientemente le varie questioni senza pensare che il discutere sia un danno per l'agire ma che lo sia piuttosto il non essere informati dalle discussioni prima di entrare in nazione e di certo noi possediamo anche questa qualità in modo differente dagli altri cioè noi siamo i medesimi e nell'osare e nel ponderare al massimo grado quello che ci accengiamo a fare mentre negli altri l'ignoranza produce audacia e il calcolo incertezza è giusto giudicare superiori per forza d'animo coloro che distinguono chiaramente le miserie e i piaceri ma non per questo si lasciano spaventare dai pericoli e anche per quanto riguarda la nobiltà d'animo noi ci comportiamo in modo opposto a quello della maggioranza ci procuriamo gli amici non già col ricevere i benefici ma col farli chi ha fatto il favore è un amico più sicuro in quanto è disposto con una continua benevolenza verso chi lo riceve a tener vivo in lui il sentimento di gratitudine mentre chi è debitore è meno pronto sapendo che restituisce una nobile azione non per fare un piacere ma per pagare un debito e siamo i soli a beneficiare qualcuno senza timore non tanto per aver calcolato l'utilità del beneficio ma per la fiducia che abbiamo negli uomini liberi concludendo affermo che tutta la città è la scuola della grecia e mi sembra che ciascun uomo della nostra gente volga individualmente la propria indipendente personalità ad ogni genere di occupazione e con la più grande versatilità accompagnata da decoro e che questo non sia ora un vanto di parole più che una realtà di fatto lo indica la stessa potenza della città potenza che ci siamo procurata grazie a questo modo di vivere sola tra le città di adesso infatti essa affronta la prova in modo superiore alla sua fama e lei sola al nemico che la assale non dà motivo di irritazione quando costui considera da chi è vinto né al suddito motivo di disprezzo come se costui non fosse dominato da persone degne noi spieghiamo tutti la nostra potenza con importanti testimonianze e molte prove e saremo ammirati dagli uomini di ora e dai posteri senza bisogno delle lodi di uno mero o di un altro che nei versi può dilettare per il momento presente mentre la verità sminuisce le opinioni concepite sui fatti ma per avere costretto tutto il mare e la terra a divenire accessibili alla nostra audacia stabilendo ovunque monumenti eterni delle nostre imprese fortunate o sfortunate per una tale città combattendo costoro che nobilmente pretesero di non esserne privati sono morti e ognuno dei sopravvissuti è giusto che sia disposto ad affrontare sofferenze per lei